L'ultimo mese fa riflettere della Juventus? No, ma fa riflettere l'ultimo mese o fa riflettere quelli precedenti? Perché io ti dico la verità, io a settembre e forse anche prima, a giochi fermi, cioè il campionato non era ancora iniziato e ti dico la verità, la Juventus aveva ancora in rosa due giocatori che non ci sono più stati, Fagioli e Pogba, lascia stare Pogba cosa sarebbe stato, non lo sapremo mai, però sappiamo cosa poteva dare eventualmente un giocatore come Fagioli, che non è sicuramente Pelé, ma era un giocatore che poteva essere utile in questa Juventus. Io avevo detto che se la Juventus con il Napoli che aveva vinto lo scudetto, Milan e Inter che secondo me comunque partivano tra le pretendenti al titolo, la Lazio che era arrivata seconda, la Roma che aveva preso Lukaku, insomma tutta questa serie di squadre non avevo sicuramente tenuto conto del Bologna, però io avevo detto che se la Juve fosse arrivata quarta sarebbe stato un miracolo, un miracolo, l'ho detto prima che iniziasse il campionato, quindi la verità sta forse un po' nel mezzo, perché tutte le cose che ha detto adesso Francesco tirano a una direzione, ma non è che per caso forse questa Juventus è fatta comunque da giocatori, insomma non ti dico mediocri, perché dire che Chiesa e Vlaovic sono due giocatori mediocri, no, però insomma dove Allegri con tutto che si può dire del gioco, però si alza e si gira in panchina e vede Nicolussi Caviglia, Hilling Junior, insomma giocatori che forse alla Juventus che vinceva nove scudetti consecutivi probabilmente non andavano neanche in tribuna questi giocatori. Questo è un dato di fatto Massimo. Un po' di valore che pesa, il valore che c'è in campo, di personalità, di esperienza, insomma giovani bravi magari qualcuno ce n'è, anche se Miretti ha fatto 60 partite, però faccio una domanda, ma con Miretti tu puoi andare a vincere lo scudetto? No. Chiedo eh. No, no, questi giocatori, siccome devi prendere in considerazione la prima come esempio, ma all'Inter Miretti giocherebbe titolare, Nicolussi Caviglia si sederebbe in panchina? Faccio queste domande. Credo che insomma le risposte vengano da sole. Se prendo dei giocatori della Juve che vanno di là a giocare titolari ce n'è pochissimo. Sei d'accordo anche tu con quello che dicevano Francesco e Massimo, cioè puntare anche il dito sulla qualità media della Juventus. Io credo che certo è la via di mezzo, perché la Juventus davvero quella che era arrivata allo scontro diretto esteri in testa della classifica praticamente era veramente un miracolo quello che stava facendo, perché obiettivamente l'ha detto Massimo, la rosa dei giocatori attuali della Juventus non è da primo posto. In più, ribadisco, ha perso due giocatori che erano due titolari, perché i ragazzi Pogba e Fagioli comunque sì erano due titolari. Poi Pogba non sapevamo come avrebbe recuperato da quella lunga e interminabile serie di infortuni, però era un giocatore che poteva spostare gli equilibri del centrocampo e far rendere una squadra in modo diverso. Oggi la Juventus, certo, sta pagando più del previsto, perché davvero non riesce a ritrovare quella... Forse è stato anche un minimo di tenuta mentale che è crollata nel momento in cui loro hanno perso con l'Inter e lì forse c'è stato un po' di rilassamento, non so come si può definire. Certo, andiamo poi a vedere l'aspetto positivo, vale a dire, se la Juventus, come io penso ormai, credo che non sia un problema, a riuscire ad arrivare in Champions League e a farsi magari una finale di Coppa Italia, che cosa si prendeva? Che vincesse lo scudetto, era questa la pretesa. Non è nelle coppie, quindi io il giudizio poi finale aspetto ancora a darlo, perché può ancora fare delle cose importanti la Juventus. No, è vero, è vero, quello che ha detto Massimo, la qualità è giustissima il discorso, sono d'accordo, però quando la squadra era diventata un gruppo solido, anche con i Miretti, con gli Junior, con i Gatti, con il Diz che ha 18 anni, tu portavi a casa le partite. Sì, ma la squadra non la fa in dieci partite. No, no, ma nessuno dice questo. Le squadre si fanno in anni. Nessuno dice questo, sono d'accordissimo su questo, vanno costruite le cose, certo, però quando una cosa gira comunque in qualche modo tu te la riesci sempre a cavartela, quando l'ambiente è buono. Quando l'ambiente poi diventa, tra virgolette, siccome in questo momento la Juventus ha attorno e dentro di sé un po' di, così, ha proprio bisogno di una svolta sia dal punto di vista qualitativo in campo, cioè andare su giocatori tipo Cobb Miners, di cui si parla da mesi, per esempio, e forse anche la questione, non so, panchina, andrà discusa in altri modi, perché secondo me Allegri non resterà volentieri, non è uno di quelli che resta volentieri in una Juventus con questo tipo di rosa, anche perché vedi che manca a Rabiot e il centrocampo gira in un altro modo, ed è un'assenza oltre le altre due. Maggiore ragione se l'anno prossimo, come io penso che sarà, farai la Champions League, comunque quindi avrai bisogno di molte più alternative. Però Antonio, dico anche un'altra cosa, tutto vero quello che è stato detto, la Juve però inizia a perdere punti nel momento in cui ha un ciclo di partite che sulla catta erano più semplici, l'Empoli, l'Udinese, adesso vabbè, per carità, Napoli e Atalanta sono due avversari importanti, però lì è proprio venuto a mancare un qualcosa, no? Ma io condivido tutto quello che ha detto Massimo e in parte anche Francesco, il campionato dice una cosa, che l'Inter è fuori concorso e poi dietro ci sono quelle 4-5 squadre tra cui chi sta facendo bene, malgrado tutto, è la Juventus, perché tutti criticano tutto quanto, ma la Juventus per il valore della rosa è seconda o terza in classifica, adesso è la prima volta che è terza secondo il Milan, chi sta mancando sono altre squadre secondo me, tra cui anche il Napoli, Napoli-Lazio, la stessa Roma poteva essere nettamente più avanti, poi dopo c'è stato un cambiamento, di nuovo condivido con l'adetto Francesco, De Rossi ha fatto un lavoro fantastico, eccezionale, se riuscirà a raggiungere la Champions farà un capolavoro. Io per questo motivo ci ho con l'Allegri Out, per quello che hai appena detto, che la Juve non è il problema dell'anno e della stagione, ma è una sorpresa fino a un certo punto, dopodiché è crollata. Sì, però purtroppo la qualità alla lunga viene sempre fuori. Certo, non c'è. Però la colpa non è poi di Allegri, ma è... Non solo sua, almeno. Esatto, io credo che una squadra che deve vincere un campionato deve avere uno zoccolo duro importantissimo. È vero. E quando la Juventus vinceva, se tu pensi ai giocatori che c'erano, ti rendevi conto... Certo, ma anche voi in panchina. E poi adesso Massimo ha fatto delle considerazioni eccezionali dicendo, ma certi giocatori della Juventus giocherebbero nell'Inter. No. E quindi ti dà già la risposta. Cioè addirittura di conoscere la consapevolezza. A me nasce anche... Esatto, Riccardo. Nasce anche... Allora, tutto vero, quello che avete detto, però il problema è... Nasce da agosto. Cioè, l'abbiamo detto subito qua, la Juventus di fatto è l'unica... Che non ha fatto mercato. Che non ha fatto campagna acquisti. Non poteva farla. No, no, certo. Però ecco perché poi arrivo da lì. No, però aspetta, Riccardo. No, aspetta, Riccardo. Però andare a spendere 15 milioni di euro per UEA, io vorrei andare a cercarlo chi li ha tirati fuori questi 15 milioni, eh. Non è che te l'hanno regalato UEA. Sono d'accordo perché... Io capisco cambiasso che ti ritorna indietro. Ma 15 milioni potevano essere indirizzati, secondo me, su altri giocatori, su un parametro zero. Cioè, ci sono anche giocatori in Italia che giocano in squadre meno blasonate, che hanno fatto dei campionati discreti e per vedere quello che sta facendo questo ragazzo. Io non ce l'ho assolutamente col ragazzo, però il ragazzo sta facendo vedere che ha dei grandissimi limiti di tutti i generi. Cioè, e hai speso 15 milioni, ma non è che te l'hanno regalato. Lo ho detto anche prima durante altre cronaghe. Insomma, puoi dire anche della campagna acquisti. Io dico, lì in quel momento, secondo me, la campagna acquisti è stata fatta, secondo me, male. Perché se avevi 15 milioni... No, Max, vero, però è anche vero che tu con 100 milioni che dovevi incassare nello scorso, probabilmente mi incommissavi se non lo lasciavi andare in Arabia, per esempio. Poi su UEA sono d'accordissimo che è un errore non da poco, tra l'altro. Però quando ti mancano quei soldi... Ma 100 milioni non li hai avuti, punto. Non ne hai avuti. No, 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 certo, certo. Non sono riusciti a fare mercato senza la liquidità. Poi c'è il fatto che lui, secondo me, è allegri che... No, però ti puoi inventare qualcosa. Scusami, scusami, Francesco, scusami. L'Inter, guarda che ha lavorato benissimo, perché parecchi giocatori, non ti dico tutti, ma alcuni giocatori sono arrivati a parametro zero negli ultimi anni. C'è la Noglu, Turam, Mkhitaryan. Allora, vedi che puoi anche lavorare in genio a volte e non mettere soldi come sono stati messi anche negli anni precedenti e onestamente andare a cercare e lavorare con i parametro zero. E' anche vero che quello che tu stai dicendo è una grandissima verità, ma c'è anche da dire che ad oggi l'Inter, con questi nomi qua che stai facendo tu adesso, in tre anni di Inzaghi, al momento sta per vincere il primo sculetto ora. Quindi... Sì, però ho fatto una finale di Champions, però è un trofeo. Però per lui il parametro è il fatto che Inter Milan e Juve arrivano secondo o terze, c'è sempre qualcosa che non va. No, ma dico, perché Allegri era stato anche intelligente a capire che comunque la rosa della Juve non era come quella delle altre, l'avete detto prima, Inter-Milani, e allora ha detto, oh, c'è stato un periodo da novembre a febbraio che alla Juve non tirava in porta. No, non prendeva gol e non si dilativa. Ho capito che stanno, che stanno giocando in un certo modo, perché poi ci sono gli Allegri Out e gli Allegri Dean, però, lo dicevi settimana scorsa, vi piace perdere così o vi piace vincere e giocare male? Perché poi alla fine è lì il discorso. Qualche insicurezza l'ho vista, perché la Juve di un mese fa, dico, ribalta con l'Atalanta, al 2-2 non lo prende più. Mette il muro e non si non passa niente. Perché con l'Empoli tu sei in vantaggio 1-0, è vero che sei in 10, sei in vantaggio 1-0, prima di Natale... In quel momento della stagione, la leggerezza di Milik, e lo chiedo a loro due che hanno giocato ai livelli di cui sappiamo, una leggerezza del genere, nel momento in cui tu hai una partita prima dello scontro diretto dell'anno... Dice l'espressione di Milik con l'Empoli. Cioè, Milik perde tutte le certezze possibili e immaginabili, perché oggi, a parte il gol, fa un disastro in tutta la partita. Non azzecca uno stop, non fa un appoggio giusto, non c'è un pallone intelligente da nessuna parte, tira male una punizione contro la barriera senza neanche alzare il pallone. Tutta la squadra sembra però beccare la botta definitiva quando esce a San Siro con l'1-0, dove immagino che nella testa dei giocatori entri il pensiero del tipo... Vabbè ragazzi, noi non ce la siamo mai giocata per lo scudetto, ci abbiamo provato un attimo, quelli sono più forti, sono andati. Ora stiamo liberi per entrare in Champions League, che è il nostro obiettivo a quanto dice la società. Guarda, fra due cose, intanto io non lo sapevo, ma all'intervallo, quindi pare che lo stadium abbia fischiato in maniera sonora... Non lo pare, ha fischiato l'intervallo, no? Al fisco dell'intervallo ha fischiato. Esatto, e Allegri dice, qui abbiamo bisogno di tutti, quindi se vogliamo richiama un po' all'ordine anche il pubblico. Sì, sì. E poi lui dice, questo è un punto guadagnato, perché alla fine dell'anno, quando li sommi tutti, anche il punticino ti fa la differenza. Su questo ragionamento non fa una grinza quello che lui dice, perché è oggettivamente così. La Juve, diceva bene prima Massimo, a inizio stagione si parlava di... Ancora potenziale occasione per la Fiorentina, di chiude in calcio d'angolo su Buonaventura. Di una lotta a scudetto, serragliata innanzitutto tra Napoli, campione d'Italia e l'Inter, che stava risalendo ancora una volta, perché era da due anni considerata la più forte. Il Milan, che comunque sarebbe rientrato dopo un quinto posto dell'anno precedente. La Lazio, che era arrivata seconda, che aveva fatto bene. La Roma, eccetera, eccetera. La Juve, quella rosa che aveva, qualora fosse andata in Champions, avrebbe raggiunto gli obiettivi. Adesso è anche vicino a giocarsi una finale di Coppa Italia, qualora andassero bene la semifinale con la Lazio. È ovvio che lui adesso spinga su questo lato. Lo farei anch'io se fossi la natura della Juventus in questo momento, perché tanto fischiare una squadra a fine primo tempo non serve a niente. A meno che la prestazione non sia indegna. Cioè, se la squadra non gioca, come ha fatto a Bergamo all'andata, io sono d'accordo sul fischio. Ok? Che è la protesta civile, tra virgolette, da stadio. Se invece la proposta di gioco è come quella di oggi, dove tu con mezza squadra fuori, con un sacco di ragazzini dentro, e con Mirette e centrocampo insieme a Locatelli, con Cambiaso e McKennie e Dillin Junior, quindi un centrocampo giovanissimo, tranne Locatelli, fai comunque una prestazione dignitosa, perché la Juve ha sbagliato delle occasioni da gol nel primo tempo. Ha tirato fuori malissimo, ha avuto due punizioni interessanti e le ha calciate male. Mentre la Fiorentina, l'Atalanta, sulla prima azione da gioco, ha trovato un gran gol, in un momento in cui la difesa dormiva in piedi. Come si fa in questo momento a smentire quello che lui sta dicendo? Lo possiamo vedere solo in un modo al massimo. Il tifoso giuventino, abituato bene per anni, si è fatto la bocca buona quando a febbraio era lì a lottarsi con l'Inter, a meno quattro, a meno due, e nel momento in cui è crollato il castello, si sente improvvisamente di nuovo di attaccare Allegri. Come tantissimi giornalisti, tantissimi opinionisti, tantissimi calciatori e excalciatori, che da quando la Juve ha cominciato a perdere punti con l'Empoli, sono ripartiti con il solito ritornello, che Allegri non era adatto, che non si è aggiornato, che ha stato due anni a casa a non fare niente, che non è allenatore di livello, eccetera, eccetera. Io credo che vada comunque portato rispetto a un personaggio che nella sua carriera ha fatto quello che ha fatto, e soprattutto per la squadra che sta guidando. Però Francesco, sperdonami, una cosa, io ho visto la partita e sentivo gli audio della televisione. Secondo me il pubblico ha fischiato non tanto per la prestazione, perché come dicevi tu all'inizio, alcuni uomini che dovrebbero prendere in mano la squadra, io ho visto un paio di errori di McKennie, un errore di Chiesa, cioè il fischio è dovuto aver fatto dire tu che sei McKennie... Ma Riccardo, però Riccardo, scusa, tu sei McKennie chi che l'han tirato a dietro? No, no, però oggi... McKennie, scusami, McKennie, prima che iniziasse il campionato, l'han tirato a dietro, non so a quante squadre, anche gratis, gli pagavano metà stipendio, te lo dico perché lo so, guarda caso gli è rimasto sul groppone alla Juve. E qui però non si vede però il merito almeno di un allenatore che dice, me lo sono trovato qua perché l'avevamo mandato a Lizza, ha fatto male pure a Lizza, oggi sembra quasi un giocatore che è impossibile da sostituire. No, ma è vero, dicevo, ma infatti dava ragione, è un giocatore che deve portare magari un paio di uscite sbagliate... Ma non è lui il problema di oggi? No, non è lui, però Chiesa che ha sbagliato è Chiesa, è McKennie che... Locatelli o Locatelli? Locatelli male, cioè quei giocatori... Anche in ottica nazionale, questo Locatelli? È vero, è vero. Poi il secondo punto che volevo dire, lui dice un punto guadagnato, secondo me è un punto guadagnato se sei sotto 2 a 1 e fa il gol al... Cioè se sei più che pareggi, invece avanti 2 a 1... Lui perdeva 1 a 0. Sì, però 2 a 1... Ma lui lo dice in funzione della classifica, secondo me. Ah, vabbè. Però lui lo dice in funzione... Lui ho detto per la matematica... Io ho guadagnato un punto sul Bologna. È ovvio che sul Milan hai perso tutti. Di quello che lui dice da quando ha iniziato sta crisi che dice che mancano 13 punti. Oggi ne mancano 12. Non so poi da che calcolo viene fuori questo. Però io voglio fare una provocazione. Si è messo lì a fare i conti. Cioè giustamente noi stiamo facendo il punto della situazione ovviamente al 10 marzo del 24. Ma se alla fine della stagione, a maggio, la Juve ha vinto la Coppa Italia ed è in Champions League, cosa diciamo? Eh non lo so, ne parleremo quella sera lì. È una roba così impossibile che capiti? No, no, no. È stato chiarissimo lui. L'obiettivo della Juventus è la Champions. Quindi se tu già arrivi quarto, hai già raggiunto l'obiettivo. Lui è terzo con 8 punti di vantaggio in questo momento sulla quarta e quindi sta facendo, secondo lui, un campionato a terza. La sua marcia. Ma che è anche realistico. No, ma è vero, se vogliamo muovere una critica in tal senso possiamo farlo in modo diverso. La Juve rispetto all'anno scorso ha praticamente gli stessi punti. Ne aveva uno in più settimana scorsa. Adesso non so con la parola di oggi come sarebbe la classifica rispetto a quella stagione precedente, ma nella stagione precedente ha giocato in Europa fino alla semifinale di Europa League. Quindi per quelli che dicono forse è meglio non avere l'Europa di mezzo, anche lui è lì che non ha aspettato di giocare. Però è sempre un discorso di qualità. Allora, io credo che la Juventus, come diceva Massimo prima, dovevi vedere anche i primi mesi che aveva raccolto molto di più di quello che meritava. E adesso, per assurdo, ha fatto le ultime due partite molto bene e non ha raccolto niente. E ha registrato un punto. No, pensa che avevo guardato... Nel campionato si... Sì, sì, ma è vero. E' un atteggiamento diversissimo quello con Napoli e Atalanta di oggi. È una Juve offensiva che attacca, che sbaglia un sacco, però sulle ripartenze, subito, al primo tiro con Napoli. Al primo tiro con Atalanta. Va a prendere dei gol. Comunque ho controllato, hai ragione tua, aveva un punto in più, al netto dei 10 di penalità, perché chiaramente c'erano quelli, poi sono stati ridati, poi sono stati tolti. C'erano Pogba e Fagioli. Eh sì, erano 49, ma con un meno 10. Quindi sul campo erano 59, uno in più di quelli che ha oggi. Esatto. Sì, ma c'è il Pogba di adesso, non è più il Pogba di 7-8 anni fa. Però sai, averlo anche in panchina? Sì. Averlo lì per mezz'ora, 40 minuti. In questo momento qua, secondo me la Juventus manca uno zoccolo duro importante. Certo, certo. Però io credo che... Ho avuto uno zoccolo duro, fondamentale, con grandi giocatori, che adesso non ce l'ha. Quando voi entravate negli spogliatoi, avrete avuto all'inizio della vostra carriera, tu e Massimo, dei personaggi che venivano lì a prendere il coppino. No? Oggi, in questa Juve... È un calcio diverso adesso. Sì, però in questa Juve... Una volta c'era uno spirito di appartenenza. Verissimo. È diverso. Però nella prima Juve di Conte si racconta che in quello spogliatoio, oltre a Conte... Ma era già Conte lo spirito di appartenenza. Era già Conte che voleva quello. Del Piero, Chiellini, Buffon, Barzagli. Se tu facevi una leggerezza, al lunedì cominciai a parlare con loro, prima che col mister. Oggi Allegri si gira e con chi fa parlare, tra virgolette, i leader tecnici della squadra... Ti sto dicendo che, secondo me, manca uno zoccolo duro importante. Sì. Ma si creano con gli anni queste cose. Ha ragione, Massimo. Si creano con le scelte giuste dei calciatori. Però devi passare, devi metabolizzare una serie di cose per creare un gruppo, è uno zoccolo duro, per arrivare fino a, come diceva Francesco adesso, ad avere quelli che... Non c'hai neanche bisogno che ti dica niente l'allenatore. Ti beccano i tuoi compagni di squadra, quei tre o quattro, come erano i Maldaini, Costa Curta, i Gattuso. Il Milan che vince l'ultimo scudetto. Pioli si gira e si trova. Ibraimovic in panchina. Maldini, Massara e anche Boba negli anni prima lì a discutere con lui. La Juventus finché c'è Nedved e Paratici e Marotta. Devo dirti che comunque il Milan aveva fatto un capolavoro quell'anno. Certo. Assolutamente sì. Ma quando è che l'Inter inizia a vincere, o il Napoli vince lo scudetto dopo anni, quando alle spalle dell'allenatore c'è una società con persone che si occupano ognuno della propria roba. In questo momento la Juve, anche dirigenzialmente, è ancora un po' in aria. Sai cosa c'è? Poi io voglio valutare... Hai iniziato un nuovo percorso. Io voglio valutare... Tra poco poi andiamo con i commenti. Gianni, Gianni vai. No, l'effetto... Perché noi dimentichiamo sempre quando parliamo di calcio della fondamentale ruolo che hanno i direttori sportivi. Adesso Giuntoli non è ancora entrato in azione di fatto, perché di fatto non ha potuto fare mercato quest'estate. Ma invece noi lo vediamo con la differenza, non so, dico... Sartori, che cosa sta facendo al Bologna? Ma cosa ha fatto all'Atalanta e cosa ha fatto al Chievo? Quindi voglio dire, il peso poi che hanno i direttori sportivi quando entrano in azione e hanno possibilità di fare mercato e di lavorare, che non è il lavoro che fai in una stagione che cambi tutto quanto. Io lo voglio vedere il prossimo anno la Juventus. Io quest'anno, ti dico, io fossi uno juventino, mi prendo quello che arriva, mi prendo la Champions, che è un bellissimo risultato, e poi arrivo a disco, senza aver fatto mercato e aver passato dalla giungla, perché la Juve ha visto che è successo. Tu mi avessi detto che dopo la stagione scorsa, ad agosto, potevo firmare per un terzo posto, un secondo posto, adesso in questo momento, abbastanza tranquillo, firmavo. Il problema è l'inversione di tendenza che c'è stata nell'ultimo mese e mezzo, perché tutti a dire, questa Juve vince male, non gioca, segna il 93esimo, però c'è il gruppo, è solida, è difficile da fargli gol, è arcigna, è concreta. Qua siamo passati a una roba completamente diversa. e parliamo di punti persi con squadre che dovevano essere l'autoportata, cioè l'Empoli, l'Udinese, il Verona, e quella roba di lì a fine stagione pesano, ragazzi. Ah beh, certo, perché valgono come le altre. Anche con Frosinone, se non trova... L'unica vittoria dell'ultimo mese e mezzo è quella, è arrivata, al 96esimo. Non è normale la tendenza in questo senso. Infatti, però ripeto, hai detto bene tu, non tiravano in porta, cioè la Juve non prendeva gol, e allora lì riuscivi a capitalizzare il gol davanti. Anche con l'Inter a San Siro, è vero che hai perso con un gol di Gatti, ma è anche vero che a Cesni ti ha fatto tre miracoli. Ma le occasioni che hai avuto a Napoli. Non c'è gara, rispetto a Napoli, dove tu invece hai impostato la gara in un altro modo. C'è una Juve prima di Empoli, ma c'è una Juve dopo Empoli. Napoli si finiva con tutto rispetto si finiva 4-2, non 2-1. Il pareggio sarebbe andato stretto per quello che abbiamo visto. C'è una Juve prima di Juventus Empoli, per l'occasione. Guarda che oggi siamo sulla falsaria uguale. Alla Juve al 93esimo che è negati, salta l'indusso un pallone, si scontra una palla, finisce fuori. E prima la Juve tira, ripeto, 20 volte fuori dalla porta. L'Udinese 3 in tutta la partita e fa due gol. C'è l'Udinese, l'Atalanta. L'Atalanta, sì, sì. Allora, rieccoci. Passiamo all'Inter, allora, voltiamo pagina. È un Inter, Riccardo, che a questo punto non gioca più, passami il concetto, per vincere lo Scudetto, perché di fatto l'ha vinto. Adesso è una questione di record, di migliorare, di voler vincere sempre, di voler addirittura superare i 102 punti della Juve di Conte, perché abbiamo fatto i calcoli, l'Inter ha 75 punti, ce ne sono ancora 30 a disposizione, quindi se vince tutte le partite chiude a 105. Io credo che ci sia la deadline mercoledì. Mercoledì... Ma quella è un'altra competizione. No, no, però ti spiego, cioè, i record di punti, sì, vabbè, vinci il campionato con record di punti, ma sostanzialmente ti danno la vincita dello Scudetto. Ti danno sempre uno Scudetto, eh? Appunto, sì. Ne danno uno di Scudetto. No, quello che volevo dire io è, passare un ottavo di Champions ti porta anche degli Euro, e questo è che intendevo dire. Quindi fare strada in Europa, soprattutto avendo un campionato di fatto chiuso, può essere sicuramente un aiuto. È chiaro che mercoledì ci aspettiamo delle risposte, l'Inter parte favorita, può essere, però... L'Atletico ha perso 2-0 a Cadice. Sì, però l'hai detto tu stesso, la Champions League è un'altra competizione, è un altro torneo, ha fatto fatica l'Inter a San Siro con questi spagnoli, è vero che poteva finire 2-0, poteva finire anche 1-1, se loro non facevano delle distrazioni. Credo che, a me non... Cioè, sostanzialmente non credo interessi il record di punti, perché sinceramente da qui a dire che le vincono tutte e dieci sarebbe un record altro che di record di punti. C'è una che non mi piace molto che voi vinciate. No, però, credo che, ripeto... Lo sai che c'è il rischio concreto che sia proprio quella la data in cui l'Inter può vincere lo scudetto. Il 21 aprile Milan-Inter. Sì, potrebbe anche arrivare che è già finita, tra virgolette. Perché tra l'altro dobbiamo aggiornare un attimo i conti, perché adesso non devi più fare... I conti sul 15, ma sul 16 del Milan. Non è più la Juve la seconda. Quindi l'Inter ha guadagnato anche in questo turno un punto, quindi si è avvicinato ulteriormente. Sì, certo. Andando a vincere a Bologna dove ha vinto solo il Milan la prodigazione. Ecco, devo dire la verità, io ho visto la crescita della squadra sotto il profilo di test, come testa, come temperamento, l'ho vista veramente sul pezzo. A Roma, per esempio, l'avevo già detto, tu vai lì, cambio d'allenatore, partita difficile, eccetera, eccetera, vai sotto 2-1, pareggi, dove tutto sommato, anche per il tipo di risultato, di classifica, ti può andare bene, Turan, corri in porta, prende la palla, corre a centrocampo perché la partita la vogliono vincere. Ieri non mi aspettavo un primo tempo così, sinceramente, perché ci sta tutto per portare via, vai lì tranquillo, porti via un pareggio, secondo me, il primo tempo dell'Inter ieri è stato tanta roba. Si voleva vincerla ieri. Ora, godiamoci questa aurea qua di calcio spettacolo, di punti, però l'anno prossimo si parte da zero tutti e non pensiamo... No, no, è chiaro, è chiaro. Per quanto riguarda il discorso record di punti, è vero, può ancora fare addirittura meglio, può fare 105? Può fare 105, sì. Nel 2006-2007 c'era solo l'Inter di Mancini che aveva un punto in più di oggi con le stesse partite, cioè 28 partite era 76 contro i 75 con una differenza reti di 36 rispetto ai 55. e la differenza con la Juve di Conte è che la Juve di Conte arriva al terzo scudetto consecutivo. E perde l'Europa League per fare record di punti a memoria. Perde l'Europa League in semifinale contro il Benfica al ritorno, non è che la perde gli ottali. però fece turn over perché la domenica ci teneva lui a... No, 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 fece un'altra cosa. Sul risultato bloccato di 1-1 a Torino dopo aver perso 2-1 a Torino, lui cambiò le due punte con le due punte senza giocare a quattro. In quel momento lo stadio chiedeva le quattro punte per provare a vincerla e tutti dissero non l'ha fatto per arrivare... non è vero. Quella è una leggenda metropolitana di chi non conosce né l'allenatore né uno spogliatoio. Secondo voi un allenatore come Conte in un momento del genere a un quarto dalla fine non mette due punte in più perché pensa a fare i 102 punti in campionato nelle parti successive quando con la testa sei a una finale europea dopo quasi 15-20 anni? No, no, no. Ma è la leggenda. È la leggenda che girava. È una grandissima stupidità. Perché dico che è importante... Cioè, mercoledì puoi anche essere eliminato con l'Atletico Madrid. Vabbè, quello... Cambierebbe però il giudizio sulla stagione dell'Inter. No, secondo me no. Cioè, resterebbe una grande stagione perché vinci lo scudetto. Beh, come no? Però se esci agli ottavi di Champions... Come no? Scusami. Mi stanno raccontando tutti che è la migliore squadra d'Europa. Adesso esce con l'Atletico va bene uguale? No, ragazzi. Non mi tirate in balo su questo giocchetto perché in Allegri... No, no, no. No, fermo. Perché qui ti sta preparando un terreno che non mi piace. Molto lunga. No, no, no. Molto lunga. Allegri arriva... E possiamo chiedere anche Massimo che era qua con noi insieme agli altri. Però si sta preparando un terreno che non mi piace. Allegri arriva a vincere... Perché lo so dove va a finire. Coppa Italia, Supercoppa... Lo so dove arrivo. Certo che lo sai dove arrivo. No, ma non può essere. Coppa Italia, Supercoppa, campionate, perde la finale di Champions. Nel momento in cui perde la finale tutti i quotidiani e gli anti-Giuventini o non-Giuventini parlano di fallimento stagionale. No, io non... Io ripeto. Qua si parlava in quel senso. C'ero e me lo ricordo. Fuori uguale. Allora, siccome abbiamo... Dato che si parla su tutte le reti e su tutti i quotidiani sui web della migliore Inter degli ultimi vent'anni che gioca meglio di quella di Mourinho non mi raccontate che adesso voi potete uscire tranquillamente con l'Atletico. Però non può passare il concetto che se... Non ci crede nessuno. Non può passare il concetto ci rimani male ma non può passare il concetto che la stagione diventa fallimentare. Io ho detto fallimentare? Perché per due anni ci avete detto che Supercoppa è completata. o parlato di un altro fallimento? No, ho parlato di fallimento. No, non cambierebbe giudizio perché l'obiettivo è già dichiarato a settembre è la seconda stessa. Parla con me. Io parlo di fallimentare? No, però... Però cosa? Non ho detto fallimentare. Non ho detto dove si vuole arrivare. No, ti sto dicendo un'altra cosa. In Italia se non lo vinci tu lo scudetto che l'hai perso per due anni non ti deve vincere. Ho capito. Questo è il gioco qua? Questo è il gioco qui? Però secondo me da come... Allora, parliamo un discorso. L'Inter di oggi secondo me con l'Atletico Madrid non deve uscire. Ok? No, ma non è vero che non deve. Tu hai detto non cambia niente. Alla domanda sua risposta non cambia niente. Non è vero che cambia niente nel senso che poi alla fine arrivi a maggio... Le aspettative non sono queste. Beh, le aspettative vostre e di quelli che scrivono sui voi. Le aspettative non sono quelle di ritorno al finale. Avete anche un titolo da vice campioni da difendere. Siete paragonati da due mesi alla miglior squadra d'Europa che ad oggi non si capisce quale sia. Però se tu arrivi a maggio che vinci Scudetto, Supercoppa e Scirottavi di Champions è una buona stagione e vinto Scudetto. Ottima la stagione per me. Non è buona. L'ho detto prima. L'ho detto prima. Con questo campionato sei obbligato a far bene in Champions. Però è vero anche che hai... Scusami. È vero anche che hai dalla tua parte una grande penalizzazione del fatto che tu il campionato l'hai praticamente ammazzato. Sì, però... E hai tutta l'attenzione e puoi averla sulla Champions. Sì. E hai una squadra forte e competitiva. Ma ci sono tante squadre forti perché sei arrivato scusa, finisco. In finale lo scorso anno non meritando neanche di perderla quella finale. Sì, però... Quindi hai dimostrato di essere già lo scorso. Perché ci sono tante squadre forti che sono comunque uscite. Non meritando neanche di arrivare. Però ad oggi siamo d'accordo che l'Inter sta molto meglio dell'Atletico. Diciamola tutta. Poi se mercoledì magari... Io sto dicendo che io... Stanno indietro. Perché conta molto mercoledì? Riferito al record. Perché se tu mercoledì esci e poi è solo il campionato magari poi ti concentri sul fatto che devi ammazzarlo e devi fare... Quello che intendevo io. Fatemi sentire anche Massimo. Se vai avanti... No, ma tu a sua domanda precisa. Perché lui ti ha chiesto cambierebbe qualcosa? E tu dici no. Come no? Beh no. Alla fine il giudizio non può essere... Non può cambiare perché vinci il campionato. Scusami un attimo però Riccardo. Inzaghi l'anno scorso l'avete messo... Non tu. Ma Marotta ha messo Inzaghi alla porta prima della partita con l'Atalanta. Prima della sfida di Rituale. Stanno cercando la l'elettro. Lo sappiamo tutti. Quindi non l'abbiamo fatto noi. Ok? Perché lo mette alla porta? Perché quella squadra era considerata da molti la più forte dei due campionati di Stenzi. Trambina e Napoli. Quindi qualcosa è successo dal punto di vista di guida tecnica. Quest'anno Inzaghi sta facendo dei numeri pazzeschi e quindi siamo tutti qua a farci i complimenti e a fare i complimenti su di lui e a lui all'Inter no? Ma il concetto è adesso non si può far finta dopo che si è parlato per mesi di una squadra stratosferica potonica forse la più forte Europa con la difesa migliore di tutte la media gol più alta la media gol subiti più bassa i giocatori intercambiabili in ogni ruolo l'Autaro che sta facendo dei disastri in senso positivo dal punto di vista dei numeri tutti quelli che entrano sono allo stesso livello esce con l'Atletico è uguale No Non ho detto che è uguale io ho capito il giudizio finale cambia qualcosa Il giudizio sulla stagione Sì che cambia Sulla stagione Dico io Non sullo campionato Ma come no Riccardo? Ma come no? Hai fatto la finale di Champions l'anno scorso Sentiamo anche Brambati su questo argomento che sono curioso Massimo Cosa pensi tu? Ma allora non attacchiamoci ai dettagli delle parole Io dico che l'Inter comunque sia ha fatto un'annata straordinaria e la sta continuando a fare Ausilio e Marotta hanno messo a disposizione di Inzaghi una rosa mostruosa ma Inzaghi ha fatto un lavoro straordinario è migliorato tantissimo probabilmente da quando come diceva prima Francesco l'anno scorso di questi tempi l'avevano tra virgolette un po' messo alla porta perché si inannellavano le sconfitte in campionato e la Champions viveva un momento diciamo così di transizione non tanto sicuro perché credo che in questo periodo avesse vinto in casa col porto e c'era il ritorno più o meno quindi non si sapeva nulla non si sapevano poi i sorteggi come sarebbero andati non si sapeva se fosse passata chi avrebbe incontrato eccetera eccetera però non è che si può dire che l'Inter se viene eliminato dall'Atletico è una stagione fallimentare poi sul fatto che diciamo la campagna mediatica su Allegri nei periodi in cui era arrivato alle finali di Champions soprattutto credo la seconda era tra virgolette contro il tecnico e forse anche contro la squadra che ormai si era insediata come la squadra divoratrice di campionati quindi doveva per forza vincere una Champions questo è un altro discorso ma è la crescita di Inzaghi e la crescita dell'Inter quest'anno è esponenziale e non credo che il giudizio passi attraverso l'eliminazione o meno dell'Inter in Champions o dalla qualificazione o meno certo fa piacere avere una squadra italiana in più davanti perché poi il ranking anche si alza e quindi magari c'è la possibilità onestamente di avere cinque squadre in Champions e non quattro e quindi si spera anche dopodomani nel Napoli però io credo che lo scudetto dell'Inter è lì ragazzi lo scudetto vinto praticamente a marzo nessuno ha parato di fallimento con attenzione di giudizio che cambia esatto per me sì perché se una squadra di giudizio esce 3-0 male non è che non può essere considerato però ti rimane il rimpianto io direi io ho chiuso il campionato in primavera e ho tutta la possibilità avendo anche una squadra forte con una rosa importante di potermela giocare in modo serio la Champions certo e quindi se esce con l'Atletico è un bel anche perché quest'anno è un peccato grosso anche perché quest'anno sta avendo un sorteggio diverso a quell'anno scorso che sia un peccato certo che è un peccato hai ragione Gianni che sia un peccato sì ma che poi non è un dramma si debbano fare cioè che si debbano fare poi delle analisi negative su una squadra che ha stritolato il campionato no no su una dirigenza scusate su una dirigenza che voi sapete da quanto tempo Zhang non mette un euro no se no fatelo ve lo raccontare da quando l'ha comprata io credo che Antonio è tantissimo tempo che lui non mette un euro e questi stanno facendo tutto attraverso i soldi della Champions attraverso i soldi delle vendite di Onana di Brozovic quest'anno dell'anno prima del non rinnovo di Ducat insomma hanno lavorato benissimo sul filo del rasoio a livello economico quindi tecnico ed economico combaciando poi il risultato sportivo Arotte è bravissimo Arotte è bravissimo condivido tutto quello che avete detto però alla fine se viene eliminato sarebbe una grandissima delusione perché è utile negarlo perché è una squadra che gioca bene che è potenzialmente una grande rosa esce in un momento di questa stagione con una squadra che è un po' in crisi che non sta facendo risultati ma occhio perché loro hanno un allenatore vincente e gli allenatori vincenti in certe partite si esaltano è questo il problema è questo l'ambiente è tutto detto questo l'obiettivo era lo scudetto perché se avete visto anche il percorso in Champions cioè Inzaghi ha fatto turnovere in Champions nel gironcino di eliminazione non ha fatto turnovere in campionato questo per dire quanto voleva mettere la testa sul campionato dopodiché ovvio che se questo è un Inter ai massimi livelli entra a classe ne esce palla a piedi dall'area cioè per essere eliminato con l'Atletico Madrid secondo me non sono un'armonizzazione ma devi fare una pessima partita perché vuol dire perdere con due gol di scala si deve essere proprio una serataccia no Alberto cioè se noi prendiamo il momento delle due squadre vuol dire che mercoledì perché succeda questo l'Atletico fa la partita dell'anno e l'Inter fa la peggiore partita dell'anno esatto cosa che sinceramente non credo secondo me l'Inter è mentalizzata a fare record ovunque giochi ha avuto quell'incidente di percorso in Coppa Italia col Bologna che sinceramente sembra di un'altra stagione rispetto a questa ma quando lo vedi scendere in campo ma a mio avviso può anche vincere a Madrid dell'Inter anzi può anche essere che vinca addirittura perché di fatto che turno avrà fatto Bologna nel secondo tempo però all'inizio l'ha voluta incarnare Lautaro in panchina già è un segnale però c'è la nuova che lo rientra dopo tre mesi e lo mette dentro Turano l'ha fatto giocare Barriera l'ha fatto giocare devi farlo giocare devi dargli i minuti però l'ha fatta diciamo l'anno scorso Pioli è stato criticato Bologna ne aveva cambiati dieci era vero che era la semifinale però ne aveva cambiati dieci sì sì però era la semifinale comunque deve fare una grande partita a Madrid l'Inter no ma che nessuno lo farà anche tu la vedi in bilico mi pare di capire no non è che la vedo in bilico ma deve fare una partita ma deve fare una gran partita per fare il turno ti aspetti la rigiro ti aspetti un grande atletico ecco mercoledì mi aspetto un atletico pericoso cioè per dirti ma per l'ambiente per tante cose basta pensare al ciolo che carattere ha in Italia c'è il divario no abbiamo detto che è due spanne sopra gli altri l'Inter di Bologna non basta Madrid è forse questo che intendi no cioè è questo puoi vedere come staranno anche i vari Griezmann e Morata probabilmente non c'è già questo è un'assenza pesantissima è un'assenza pesante è pesantissima per l'atletico in un momento in cui è già in crisi ha perso anche l'ultima partita ma voi siete sicuri che non c'è Griezmann no ho detto probabilmente Morata doveva essere in ospedale per due mesi Simeone ha detto proviamo a recuperarlo al massimo rientra domenica con il Barcellona faccia parte della strategia questo è strategia bravo bravo Antonio bravo Antonio è già iniziata la partita giusto Maggi? può essere è già iniziata la partita è che nel weekend ha perso e due settimane fa è uscito dalla Coppa di Spagna con un 2-0 con un 3-0 non è una squadra che sta in salute in questo momento però può avere anche una rabbia in più io sono d'accordo con lui sull'allenatore se la squadra comunque non gira può fare fino a un certo punto ragazzi per loro è la partita dell'anno ah sì senza dubbio e un allenatore come Simeone stai tranquillo che se la giocherà alla grande non la sbaglia quello non c'è dubbio allora rieccoci si continuava a discutere anche durante la pubblicità no? sull'atletico su come se la andrà a giocare comunque Riccardo lo vedo già atteso è già in clima partita ma no ma no cioè allora io credo che l'Inter se fa l'Inter ma senza fare lo sborone se l'Inter fa l'Inter passa il turno può anche magari avere delle difficoltà parli come se fosse Real Madrid che ha 14 Champions se l'Inter fa l'Inter basta cosa no se l'Inter gioca da Inter se l'Inter fa l'Inter di quest'anno tu mi hai detto che è una delle più forti se l'Inter fa l'Inter secondo me alla fine gioca la squadra vince la squadra più forte ma tra le due è sicuramente più forte ecco quindi detto questo ci sono una serie di variabili che sono giocare a Madrid Simeone la metteranno sicuramente non solo sotto il profilo tecnico non hai un gran vantaggio dalla parte dell'andato c'è comunque quel gol di vantaggio l'Inter di campionato che ha 21 clean sheet mi pare difficile che prenda due gol senza segnarne Madrid questo bisogna vedere se Madrid per dire bastoni può entrare in aria con la gamba alta o con il gomito alzato perché quello va capito per esempio come è il movimento no gomito o gamba insieme lo fai l'abbiamo appena rivisto no stavamo vedendo una bella roba sul VAR vi hai capito perché è rigore netto è fallo di mano è gol annullato ma tu hai visto dove c'è il piede no lo so di cosa sta parlando sta parlando abbiamo rivisto offline il VAR di Inter Atalanta esatto dove è fallo di mano cioè non c'è niente da dire è l'unica cosa che oggi certifica la gamba di Bastoni dov'è? la gamba di Bastoni non va contro corpo quindi non è gioco pericoloso ah non lo socca no ma gli arriva così non me l'ha vomitata a due diciamo che Bastoni prima gli dà un colpone però ragazzi inter Atalanta è legna no però visto che ha detto gioco pericoloso però vabbè aspetta 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 quello che ti voglio dire piuttosto parliamo di Inter Genoa visto che c'è per esempio parliamo di Inter Genoa le parole di Barella subito dopo la partita di ieri a Bologna cosa dice Barella ci torna su quel rigore che lui si era procurato e dice dopo il Genoa mi hanno additato come un simulatore il mio intento non era di fare una simulazione ma ho sbagliato nella reazione e si riferisce alle pirouette alla caduta esatto alle capriole da terra quando si sbaglia si può chiedere scusa mi sento di chiedere scusa per quel momento quando vuoi vincere fai cose che non vuoi fare e quindi volevo chiedere scusa quindi di fatto sta dicendo Barella ho simulato chiedo scusa non volevo simulare però l'ho fatto non è il zuppo ma è il pan bagnato non lo so e adesso la secondo me ha accentuato ma gli fa anche onore perché poteva anche non dire niente ha accentuato una caduta dove non c'era fallo questo va detto però ha chiesto scusa e già lì secondo me perché tanti altri il gesto è molto bello il gesto è bello io le sue scuse le apprezzo però non ce la ricordo no aspetta aspetta escusazio manifesto no aspetta fammi finire fammi finire allora siccome io sono uno che vede le cose a 360 gradi gli atteggiamenti di Barella non sono bellissimi ma non solo sulla simulazione quando protesta allora tu hai chiesto scusa adesso mi aspetto da Barella un percorso che non è vabbè ma adesso non ha ammazzato nessuno prendiamoci chiaro qua stiamo provocando scherzando siccome si legge e ha chiesto Barella vabbè ha chiesto scusa ovvio ha vinto si è portato a casa a rigore ok va bene ora in poi però mi aspetto un Barella diverso sotto questi episodi perché chiedere scusa è importante però poi devi capire lui l'ha motivato ha detto quando tu stai giocando pensi solo a vincere quindi sei in quel momento devi prenderti un rigore e te lo prendi però non sentivo questo ragionamento da parte loro quando Quadrado si tuffa in quel famoso Juve-Inter dove si inventa un rigore che Perisic non causa mai però Quadrado non ha mai chiesto scusa Quadrado ha infatti finito all'Inter sì ma neanche Teo Hernandez Deao e Gatti non hanno chiesto scusa quest'anno per esempio neanche tanti altri Massoni ha chiesto scusa per la comitata ma certo ma io non so ho visto i tre bissecca a Genova dovevo sentire i due giocatori qui in studio come la come la interpretano questa cosa non si previscono intervenire su queste cose no però sul fatto che Barella ci torni e sia lui a dire o sbagliato sì per l'amor di Dio può essere un gesto carino importante però a volte è meglio anche star zitti e fare le cose poi dopo bene per non cadere poi nello stesso errore tu dici meglio non parlare e non farlo più ma sai dai una colpa a un arbitro allora quel momento lì nel momento in cui ammetti di aver fatto un errore tu a cadere a simulare l'arbitro che aveva avuto in un errore no ma anche perché c'era un vecchio detto latino che conoscono in tanti ma tanti no che era scusatio non petita e accusatio manifesta che era una missione di colpa senza che nessuno te lo chiedesse in poche parole è questo quello che non passa cioè che a me non arriva dalla sua dichiarazione l'altra sera a meno che lui in questa settimana abbia letto e sentito tutte le cose che venivano dette su di lui e abbia detto ma Bassetti che è un medico di tifoso genovano ha dichiarato in tv che staccava gli abbonamenti dalla zona da skype e altrettanto Zangrillo in radio ha detto di peggio cioè evidentemente gli sarà arrivato per forza qualcosa io lo vedo come un fatto che possa esagerato poi nella caduta nel girato sì 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 era quello il concetto non è che non è sicuramente il primo fallo no esatto lui ha messo la colpa di aver accentuato la caduta di aver magari tratto in inganno in quel momento l'arbitro Massimo arrivo subito Gianni avevo già chiesto a Massimo no è logico che la mediaticità oggi di queste scuse hanno un effetto sicuramente diverso da quello che poteva succedere ai nostri tempi ha detto bene Riccardo e anche Antonio cioè l'importante poi che poi queste scuse abbiano un seguito nei comportamenti io ricordo per esempio un Bari Sampdoria con la Sampdoria dello Scudetto dove io marcavo primo tempo Lombardo e secondo Mancini e finì in prima pagina sulla gazzetta perché Lo Bello mi ammonì due volte senza buttarmi fuori tant'è vero che nel nel tabellone in alto al San Nicola venne fuori la mia foto con due volte la munizione e lui non si accorse mi scambiò errore tecnico si poteva ripetere la partita il problema è che io feci una cazzata perché Matarrese mi chiamò immediatamente dopo la partita nel suo ufficio e mi disse mi raccomando domani ti chiameranno sicuramente i giornali all'epoca non c'era tutto questo tant'am mediatico all'epoca c'era pressing la domenica sportiva e il novantesimo minuto che però avevano già sottolineato questa incongruenza nel senso che io feci un fallo su Lombardo a munizione poi secondo tempo fallo su Mancini a munizione e tutti i giocatori da Sampdoria addosso allo bello a dire guarda che l'hai già munito nel primo tempo io ero già pronto perché mi stavo dirigendo verso lo spogliatoio poi ho visto che invece non tirava fuori il rosso ho detto boh io sto in campo e infatti finì la partita peraltro finì uno a uno 16 dicembre 90 bravissimo bravissimo il giorno dopo mi chiamò Maida della Gazzetta dello Sport e mi fece un'intervista e io come un pollastrello ci cascai e dissi sì sono onesto è fuori un casino pazzesco con Matarrese incazzato nero mi diede una multa un disastro ma infatti però lì dissi la verità Cosa vuoi dire Massimo cosa vuoi dire che è meglio star zitti allora certo certo ma quello che ha detto Antonio va vicino a quella che dovrebbe essere era già passata una settimana stavi zitto io lo apprezzo io lo apprezzo però in quello stesso istante in cui tu dici ho sbagliato chiedo scusa dai del pirla all'arbitro e io nello stesso tempo in cui dicevo sì ho preso due ammunizioni dopo del pirla lo bello tant'è vero che lo bello lo incontrai poi all'aeroporto qualche mese dopo perché lui rivenne ad arbitrare e mi fece con la mano da lontano così come per dire c'è proprio un pirla Massimo ma i falli li avevi fatti o no? eh a voglia i pezzi di calzettura attaccati ai tacchetti cioè vuol dire che il primo giallo era già un cumulo di falli cioè Massimo potete entrare nel Guinness dei primati facendo il terzo fallo giallo e prendere il terzo giallo il problema è che non erano tre falli erano 30 falli il concetto è un altro è che allora io non ho mai visto calciatori tipo Quadrado la Juve faceva spesso e volentieri delle giocate simili l'Iksteiner capitava di lamentarsi più il dovuto tanti giocatori nel Milan così ma la storia del calcio è piena di questo ma sì ma anche del Milan anche un po' del Milan no perché un po' perché la Juve fa di più del Milan non è quello il punto il punto è che senza parlare di queste cose tu ne esci facendo spegnere la questione e quello che dice Massimo il punto è giusto cioè è il dare prova al direttore di gara che sia in quel momento sia stato un incompetente perché è cascato nel turno beh ma l'avevano già dato però l'hanno detto tutti però tu non hai c'è il Valla però vanno a scendere la polemica ribadendo il concetto due o una settimana dopo non serve più perché la roba ormai è andata no? cioè io non avrei sentito Buffon dire sì il gol di multare è dentro un metro e mezzo no ma così intanto si è già visto dici tu ma cioè non vedi chiunque che è dentro un metro e mezzo cosa devi dire che non è dentro? ma l'arbitro era già un pollo già preso un'ambizione di questo tipo che per carità l'arbitro è stato sospeso perdonami questa è una arriverà certificata come un rigore non regolare è concesso all'Inter di fast un errore è certificato da Marella ma l'abbiamo detto in tutte le salse cioè praticamente una partita però non penso il conto è certificarlo con una missione ma come certificarlo è stato sospeso l'arbitro ma avete detto è stato fermato per un mese l'arbitro di Intergeno il protocollo per dire prima Francesco quando diceva bisogna rivedere il protocollo qui è stato fatto anche il protocollo il VAR l'ha chiamato sì ma non gli hanno fatto vedere l'immagine giusta l'immagine giusta la vedi perché tocca il pallone ma non penso che poi c'è una terza immagine che era quella decisiva allora posso fare una battuta una battuta l'ho detto prima allora la premessa è che l'Inter merita di vincere lo Scudetto ed è la squadra più forte del campionato però secondo me tutte le volte che gli arbitri vanno a arbitrare l'Inter si toccano perché dopo gli arbitraggi un mese di squalifica due settimane di squalifica una settimana di squalifica e quell'altro non arbitra più Max non è tanto una battuta perché adesso ma com'è sta storia no ma non è una battuta perché adesso siamo tutti consapevoli che gli intermeriti di stare là non è questo il discorso però signori miei da Napoli in poi ce n'è una settimana ma bisogna vedere anche quelle contro però cioè dimmene una ad esempio il fallo su Di Marco a Bergamo hai vinto 2-1 hai vinto 2-1 ma cosa c'entra era sul 2-0 ho vinto 3-0 a Napoli era sul 2-0 ho capito però si fa 2-2 ma dov'è che incide con i risultati quello che sto dicendo io a Napoli non incide a Napoli non incide? no a Napoli cosa ne sai tu che non vinciamo? io ho detto che non vinci ma a Napoli cosa ne sai tu che se fermi il fallo di l'altro solo bocca 1-0 non viene e l'Inter non vince la partita che se dai rigore a Dosimè vanno in vantaggio magari 1-0 alla fine del primo tempo che a Genova se non fai il fallo di biste che non fai il vantaggio che a Verona che con il Verona se non tira la comitata magari cadurano i gol che con l'Udinese se l'Auto Romartino non si butta per gli tengono il gomito e la giacca non è quello che con il Cagliari va avanti che con il Napoli se non espelli che con il Napoli si infine con il Gopi tagliare è la stessa cosa va avanti hai finito il giro all'andata Inter Bologna c'è un rigore non dato che la Repubblica non la scrivo io il Corriere non lo scrivo io se non lo scrivono che le più se le più danneggiate la Serie A sono Monta e il Juventus se la più ventaggiatta è l'Inter non lo scrivo io io sto riportando di quello che abbiamo visto tutti cioè che siete la squadra più forte ma che in ogni partita compreso anche Inter Frosinone ce ne è stata una partita una partita non contro adesso l'hai detto all'andata Inter Bologna finisce 2-2 c'è un rigore non dato per farlo di zirche in aria sono due punti persi all'andata Inter Bologna vai a vedere dimmi quale c'è un rigore tu ce ne volevi tenere fuori no no era una tradizione guardate sempre quello che è vince 3-0 noi guardiamo sempre è stata fatta polemica anche a Bologna siete voi ad avermi cresciuto per 42 anni col fatto che noi rubavamo gli scudetti perché c'era un episodio due o tre all'anno qua ce ne sono dieci di fila qui ce ne sono 50 in dieci anni dimmi gli ultimi gli scudetti quali ci sono a parte Montari e il giallo a Pianici insomma hai preso 231 punti in reali certo ma non c'entra 231 punti in reali vai in Champions per un rigore che non c'è vai in Champions per un rigore Champions hanno tolto la finale a Barcellona con Barcellona perché io vi farei andare avanti per ora ma non è un dato di pubblicità però mi devo fermare non è una roba che sostengo io perché poi non posso passare da parte è ovvio che quando c'è la stagione che ti va tutto bene però bisogna avere un equilibrio qui si passa al concetto che ogni partita l'Inter lui ha elencato il numero 15 è Massimo che ha buttato la miccia è stato lui è Massimo Brambati che deve parlare oh ma ragazzi basta basta non dico più niente è troppo facile buttare le bombe dagli Stati Uniti hai lanciato una miccia hai acceso tutto ma ragazzi ma il rigore che il Napoli ha preso contro la Juve è lo stesso che non danno al Napoli con l'Inter per il fano di acerbie di cosa stiamo parlando grazie a tutti grazie a tutti